Per favore ragno uomo, sono Neogeo82, aiutaci a fermare questo fenomeno che ta... che sta... Per favore ragno uomo, aiutaci! Ci stanno trasformando tutti gli incroci in rotatorie, non ci capiamo più niente! Ci sta venendo la rambina, la labirintite a tutti! La lari, la labirintite, la labirintite, la labirintite, la labirintite, la labirintite! Grazie!